Il lavoro non è necessario solo per l'economia ma per la persona umana, per la sua dignità, per la sua cittadinanza, e anche per l'inclusione sociale. Il lavoro che ci fa essere persone, che ci fumanite, che ci permette avere una famiglia con condizioni digni e che ci fa s'enrollare come persone. Non solo questo. Il marinaio come lavoro non è come lavorare a terra, ci sono dei tempi un po' strano, nel senso che non hai il riposo dopo 8 ore di lavoro e quando stai in mare devo lavorare, deve anche supportare il tempo come al tempo. Vogliamo con questa foto dirvi che il lavoro ci unge di dignità. C'è bisogno di un lavoro che non sfrutta, che non stiaccia, che non mortifica, di un lavoro che renda l'uomo veramente libero secondo la sua nobile dignità. Non ci saremmo mai aspettate di ricevere tante foto che hanno come soggetto le mani. Mani che creano, mani che raccolgono, si donano, si sporcano, ma che pur sempre profumano di dignità. Mani che a volte protestano per i mancati diritti, ma che non si arrendono mai. La persona è scoprimero La persona è scoprimero La persona è scoprimero La persona è scoprimero Abbiamo pensato di allestire la mostra a mo' di cantiere, perché pensiamo che il lavoro vada costruito da ognuno di noi, chiamati ad essere artigiani di speranza. Nella foto si vede l'ospedale di Brian Mare, un ospedale che dava lavoro a 70-80 famiglie, oggi chiuso. Nelle altre foto invece si vede un'ex fabbrica, una fabbrica che si chiamava La Marlane. Lavoro non dignitoso, lavoro che manca veramente oltre ai vari diritti. Però questo per noi è un ulteriore punto di partenza e di appoggio su cui partire e creare un futuro che sia rosa. La persona è scoprimero Lavorando in un distretto industriale che per anni ha avuto un grosso sviluppo economico non curandosi dell'ambiente che lo circonda, oggi per noi il lavoro dignitoso è anche lavorare coscientemente per il mantenimento e per il rispetto ambientale del creato e per uno sviluppo sostenibile. Che cosa significa la parola decente applicata al lavoro? Significa un lavoro che in ogni società sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna. Un lavoro scelto liberamente che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne allo sviluppo della loro comunità. Un lavoro che in questo modo permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione. Un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare. Un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce. Un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale. Un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa. La persona è lo primero La persona è lo primero La persona è lo primero Si la persona è lo primero Si la persona è lo primero